Si sono moltiplicate le segnalazioni, miasmi, puzza nell'aria, il sindaco è appena uscito dalla tribunale, in procura ha presentato un esposto. Si sono moltiplicate le segnalazioni, al di là delle segnalazioni prima persona, lì vivo anche io queste molestie offattive, definiamole pure così. Ieri si è toccato evidentemente l'apice di quello che è il cattivo odore e la molestia, nel senso che ci sono stati anche parecchie persone che hanno chiesto l'aiuto dei sanitari, sono regate al pronto soccorso per il semplice motivo, che hanno accusato delle gravi problemi respiratori. Sono finiti nel mezzo anche i bambini, noi è da 3-4 giorni che assistiamo a questo fenomeno in maniera abbastanza importante a Siracusa e lo stavamo monitorando. Non abbiamo il dato di ieri sera, ma abbiamo buoni motivi di pensare che ci sia stato un fenomeno molto, ma molto importante. Già i dati dei giorni scorsi erano allarmanti, infatti stavamo lavorando appunto alla stesura di questo esposto. La zona di Siracusa, tutta la provincia, è una zona che sostanzialmente non ha il piano della qualità dell'aria, che dovrebbe fare la regione e che non ha mai fatto. Questo permetterebbe certamente di monitorare, controllare ed evitare queste molestie olfattive. Noi siamo al tavolo delle AIA, il 19 aprile c'è la riunione conclusiva, abbiamo fatto delle prescrizioni come i comuni di Siracusa che non hanno precedenti nella storia, proprio perché vogliamo dare un segnale chiaro e forte rispetto a quella che deve essere la salute dei cittadini. Se nella zona industriale vogliono continuare a lavorare come lavorano da decenni, è chiaro è che devono attuare delle prescrizioni a tutela della salute dei cittadini. Su questo non siamo disponibili a fare sconti di alcuna natura, abbiamo fatto questo esposto, io ricordo che al momento del mio insediamento, quattro anni fa, fece un esposto mio a Codai, un esposto fatto dai cittadini siracusani. Oggi ripropongo un esposto molto più dettagliato dove metto anche i casi di persone che sono dovute rivolgere al pronto soccorso. Tutto questo non è più accettabile, noi siamo in prima linea a difendere la comunità siracusana e ci crediamo che possa essere difesa. Io auspico che al tavolo delle AIA, rispetto alle nostre prescrizioni, ci sia un'ampia convergenza da parte di tutti gli attori del tavolo e soprattutto se le prescrizioni dovesse essere accettate dal tavolo stesso, che non ci siano poi ricorsi e tatticismi vari da parte della zona industriale che ci metta nelle condizioni di avere ancora ulteriori problemi. Deve finire questa storia delle molestie offattive. Quanto preoccupa la situazione? La situazione preoccupa nella misura in cui questi fenomeni diventano sempre più costanti nel tempo e non sono più dei fenomeni sporadici. Preoccupa quando un bambino di pochi anni va a finire al pronto soccorso perché ha problemi respiratori e gli deve essere somministrato del cortisone. È una situazione che oggettivamente preoccupa e preoccupa in maniera seria. Anche per questo, su questo argomento, nessuno si mette in testa che possano esserci sconti di alcuna sorta.